Benvenuto su Wine Soundtrack. Ascolta la passione con cui i produttori di vino raccontano la propria azienda e il loro mondo. 30 risposte per scoprire cosa consigliano, amano e detestano. Un saluto agli amici di Wine Soundtrack. Io purtroppo mi scuso, non ho ancora ritrovato le mie corde vocali, ma non potevo mancare questa occasione di incontrare l'ospite di oggi che è Elisabetta Ciccherello Fracca dell'azienda Vigna Belvedere. Ben trovata Elisabetta. Grazie, grazie per questa opportunità di incontrarvi. Due parole sulla tua azienda. È un'azienda che è sempre stata nella famiglia di mia madre, erano proprietari di boschi in Cadore ancora alcuni secoli fa e a un certo punto hanno deciso di investire più a valle, quindi nella bassa pordenonese, probabilmente perché inviavano i tronchi dal Cadore fino alla Repubblica di Venezia ed è una zona circondata da fiumi e il fiume era il mezzo di trasporto dei tronchi all'epoca. È un'azienda agricola, io ho incominciato ad occuparmene nel 2000 e ho ristrutturato il vigneto che c'era allora, quindi l'ho ripiantato ex novo, ho duplicato la superficie e mi sono appassionata alla viticoltura, trascurando un po' i seminativi, se devo dire la verità, perché la viticoltura dà grandissime soddisfazioni e soprattutto è un piacere vedere crescere dalla Barbatella fino alla vite con tutti i problemi che ci sono, imparare le mille cose che si possono imparare sulla cultura della vite e poi il vino. Mio padre aveva chiuso purtroppo la cantina alla fine degli anni 90 per anzianità e ho cercato di riaprirla ma non ci sono proprio riuscita, però due anni fa quando mio figlio ha deciso di affiancarmi in questo lavoro abbiamo cominciato a produrre il prosecco, il nostro prosecco con le nostre uve glera fatto esattamente come lo vogliamo noi. Attualmente quante bottiglie producete? Abbiamo cominciato con 3000 bottiglie che è una produzione da ridere, siamo arrivati a 20.000 bottiglie, potremmo arrivare a 100.000 se il mercato ci segue e approva quello che noi facciamo. Attualmente a quale tipologia di mercato vi rivolgete, straniero o domestico italiano? Ci rivolgiamo soprattutto al mercato straniero, siamo già in Belgio, in Svizzera, in Giappone, in America, in Inghilterra, quindi è soprattutto un mercato straniero anche perché qui la concorrenza è talmente schiacciante che noi piccoli facciamo fatica. Senti, il tuo primissimo ricordo legato al vino? Un meraviglioso verduzzo, frizzante, che facevamo noi in cantina, che aveva dei sapori e dei gusti che non ho mai più ritrovato. Parlando di educazione e quindi al consumo, secondo te a che età un genitore dovrebbe far assaggiare il primo sorso di vino ai propri figli? Anche presto perché deve essere un'educazione al bere moderato, al bere giusto, quindi non deve essere una cosa proibita perché tutto quello che è proibita per stimola i giovani a volerne di più e esagerare. È un'educazione, anzi bisognerebbe educare a conoscere il vino, a capirne le differenze, a capire quale ricchezza c'è dietro una bottiglia, ricchezza di cultura c'è dietro una bottiglia. E cosa si perde un astemio non assaggiando il tuo vino? Non assaggiando il mio vino si perde un tentativo di dare un qualche cosa di diverso anche al Prosecco che è un vino che sicuramente ha un grandissimo successo in tutte le sue declinazioni più o meno buone. Noi cerchiamo di dare qualche cosa che veramente esprima il nostro terroir e null'altro. Il vitigno perfetto esiste? Non credo, però sono tutti perfetti a modo loro e danno delle produzioni che fanno soffrire a volte, ma tutte valgono la pena di essere tentate. La bottiglia più cara della tua cantina quanto costa? Noi non abbiamo molte bottiglie perché abbiamo in realtà tre etichette diverse e il Prosecco non è un vino dai grandi costi. Comunque la mia bottiglia più cara costa, franco, cantina 9 euro. Un VIP viene paparazzato al ristorante e sulla tavola una delle tue bottiglie è in vista. Di che ti piacerebbe sapere che beve il tuo vino? Eh beh, Obama, devo dire la verità che sono... Sì, sarei molto molto lusingata. Fiere e mostre, cosa non deve assolutamente mancare nel tuo stand? A parte le nostre bottiglie, le nostre etichette, ma la nostra presenza. La tua azienda, Elisabetta, è social? Sì, beh, cerchiamo di sviluppare anche questa cosa. Devo dire che io non sono tanto addentro. Io uso moltissimo internet per tutto il mio lavoro, uso le mail. Social mi faccio aiutare dai giovani, da mio figlio e da un'altra ragazza, perché purtroppo mia figlia, che è brava in queste cose, vive ad Amsterdam ed è un po' difficile seguirci. Girando il mondo, in particolare quello del vino, quello più buono, dove l'hai bevuto? Il vino più buono per me è sicuramente lo Chablis. Ci sono alcune produzioni di Chablis che trovo veramente straordinarie, però quello che più mi ha lasciato il segno è un medio-basso vino portoghese che bevevo di nascosto in un college inglese quando ero ragazza. Sbarcano gli extraterrestri nella tua proprietà. Che vino gli fai assaggiare? Per gli extraterrestri forse l'Extra Dry, che è un vino amabile da aperitivo, anche se con un tenore zuccherino più basso rispetto alla media degli altri etichette simili. Il vino che ti sta dando più soddisfazioni della tua azienda? Il vino è il Naima, che è la nostra nuova produzione 2017, è un millesimato charmalungo che rimane quattro mesi sui lieviti ed è un Extra Brut che sta incuriosendo. A proposito di guide del settore, che cosa ne pensi? Sono un ottimo strumento per farsi conoscere e per avere dei contatti con persone che possono essere anche interessate alla nostra realtà. Da piccola alla domanda, cosa vuoi fare da grande? Da e cosa rispondevi? La veterinaria. E poi qual è stato il percorso invece? E poi sono diventata interprete, ho lavorato per moltissimi anni in istituzioni, organizzazioni internazionali, la Commissione dell'Unione Europea, per poi dedicarmi all'azienda agricola. Il vino per te è bianco, rosso o rosè? Bianco o rosso, a seconda di rabbinamento, rosè quasi mai. Fermo o bollicine? Questa è una domanda tra bocchetto. Per l'aperitivo sicuramente un prosecco e invece per il pasto preferisco un vino fermo. Bollicine italiane o francesi? No, assolutamente italiane. La parola del vocabolario enologico che ti piace di più? Perlage. Allora, abbiamo superato l'abbinamento che doveva essere a suo tempo trasgressivo, bianco con carne e il pesce con il rosso. Il tuo abbinamento più creativo è zardato, qual è stato? Il mio abbinamento più creativo? Beh, devo dire la verità che con questo nostro ultimo prosecco, questo millesimato che sta a quattro mesi sui lieviti, tentiamo di fornire un prodotto che si abbini bene a tutto pasto, quindi con un sushi per esempio. Oltre che con i classici abbinamenti mortadella e salame, il sushi potrebbe essere una novità. Per una serata di seduzione, che vino ordineresti? Ancora lo Chablis. Qualcuno legge i fondi del caffè, se si potesse leggere i fondi di un calice, cosa ti piacerebbe che ti rivelasse? Come andrà l'annata successiva? La tua squadra del cuore conquista il titolo di campionato, con quale bottiglia festeggi? Con il nostro Brut, il prosecco Brut, che è adatto secondo me. Cosa ti resta da fare nella lista dei desideri? Riprendere a viaggiare. Forse posso continuare a viaggiare portando in giro il mio prosecco, per esempio. Il miglior consiglio che hai ricevuto? Di continuare a lavorare sempre, entusiasmarsi le cose senza mai pensare che si invecchia. E il miglior consiglio che ti senti di darci? Di aver curiosità per tutto. Una cosa che le persone sarebbero molto sorprese di sapere subito. Mamma mia. Che era una bambina timida? Ti è piaciuta la nostra intervista? Sì, molto divertente. Un voto da 1 a 10? A 10 sicuramente. Grazie mille. Allora, chiudiamo con il nostro giochino. Io ti dico il nome di un personaggio famoso e tu mi dici a che vino lo abbineresti. Monica Bellucci. Monica Bellucci, anche perché è vissuta in Francia. Le diamo lo Chablis. Matteo Salvini. Un raboso. Papa Francesco. Un pino nero dell'abbazia di Novacella. E chiudiamo con... Fatti Provo. Uno Chardonnay. Allora Elisabetta, grazie moltissimo. Dacci le tue coordinate fisiche e non fisiche per aggiungerti in azienda. Allora, sicuramente mi potete trovare a infochiocciola.vignabelvedere.it e visitate il nostro sito www.vignabelvedere.it Grazie, a presto. Grazie a voi. Resta connesso con la community di Wine Soundtrack su Instagram Wine Soundtrack, su Twitter at Wine Soundtrack e su Facebook.com slash Wine Soundtrack.